E' l'Ortovox Avalanche Safety Kit che comprende un kit di sicurezza per la gestione dell'autosoccorso in valanga, comprende 3 prodotti sofisticati della linea Ortovox, il localizzatore Artva 3+, apparecchio dell'ultima generazione con funzione di marcamento della vittima, molto semplice, utilizzo sportivo ma anche utilizzo professionale, una pala metallica da grandi prestazioni, la Beast con manico telescopico metallico e una sonda con sistema di chiusura a pretensionamento PFA che è uno sistema magico inventato da Ortovox e brevettato anche da Ortovox. Il sistema che è proposto all'utilizzatore finale comprende anche un booklet, un manuale per la gestione dell'educazione e dell'intervento di autosoccorso in lingua italiana, completo di disegni e un voucher per un corso di una giornata in uno dei vari centri del programma Ortovox Safety Academy. Swisswool è un programma di abbigliamento Ortovox, da sempre Ortovox ha sposato la filosofia delle fibre naturali, della lana da sempre perché ha iniziato la produzione con i famosi guanti di lana cotta per andare poi avanti in una collezione di underwear completa in tutti i vari pesi per poi proporre quest'anno anche i capi imbottiti, i soft shell e le hard shell. Particolare importanza nuova, unica nel suo genere è l'imbottitura in fibra di lana, unica perché in effetti non ci sono in questo momento programmi simili sul mercato, è formata l'imbottitura di fibre di lana come detto proveniente da una zona molto limitata della Svizzera dove di base poi anche le pecore crescono in natura e senza stress particolare. I grandi vantaggi di un'imbottitura di lana rispetto a un sintetico sono quelli conclamati della lana che sono di base della termoregolazione corporea di una più omogenea, chiamiamolo così isolamento del capo. Capi funzionali sia tecnici e sia anche da tempo libero. S1 Plus è l'ultimo nato in famiglia Ortovox, è l'evoluzione del nostro collaudato e professionale S1 adotta una tecnologia nuova, tecnologia dell'antenna intelligente che permette la trasmissione nelle migliori posizioni di esercizio, rispetto alla versione precedente ha prestazioni anche più elevate e dà una maggior semplicità d'uso. S1 è già da diverso tempo sul mercato, questa nuova versione sicuramente migliora le prestazioni dell'apparecchio e è anche rivolto a una fascia d'utenza decisamente più ampia, disponibile ovviamente dalla prossima stagione.